Il 19 al 21 torna, ecco, prima di tutto celebriamo un importante appuntamento, il 41esimo anno di attività della cooperativa agricola Novo Cilento e nell'occasione... Il 21 gennaio. Nell'occasione poi nuova edizione di Tecnolivo Cilento Bio per presentare, ecco, tutte le novità che riguarderanno il lavoro della cooperativa. Insomma, siamo alla terza edizione di Tecnolivo Cilento Bio. Questa si preannuncia più ricca delle altre, come è naturale che sia, perché abbiamo acquisito esperienza, ma ci abbiamo anche lavorato molto, insomma, abbiamo lavorato sui risultati degli altri anni. L'obiettivo è sempre uno, quello di ridurre costi, aggiungere valore e dare sicurezza al lavoro nell'agricoltura di colline e di montagna. Devo dire che nel duro lavoro che abbiamo fatto per costruire questa terza edizione, continuiamo a notare una cosa, la quasi totale assenza di interesse verso i problemi dell'agricoltura di colline e di montagna. Tanto è vero che quest'anno si è attribuita la colpa alla cattiva annata, no? Anche Columella diceva così duemila anni fa, la gente attribuisce la colpa alla cattiva annata. Io vi scrivo un libro per dimostrarvi che, e così scrisse Dere Rustica, per dimostrare che bisognava coltivare bene invece, che è una cosa diversa. L'obiettivo è quindi quello di far coltivare bene i terreni. Che significa coltivare bene i terreni? Significa innanzitutto nutrire la terra. Nutrire la terra attraverso il letame, attraverso le leguminose, cose che sono state completamente dismesse, arando la terra e non usando più la maledizione delle frese e delle vangatrici che interrompono le catene del terreno e distruggono il terreno, e quindi dandoci vecchi, nuovi metodi di coltivazione. Abbiamo suddiviso le giornate in tre segmenti importanti. Il primo segmento riguarda la giornata dei grani antichi e dei biofrantoi. Perché cominciamo con i grani antichi? Sì, perché al frantoio abbiamo iniziato una nuova esperienza nel nostro ristorante della cooperativa, cioè quello di molire all'interno della cooperativa le farine che ci servono per fare la pasta, il pane, le vizie, i dolci, con risultati straordinari. Perché oggi alle farine in commercio vengono torte sia il germe che la cruso pagina. Ampliate il vostro settore. Sì, quindi le cose più importanti. E soprattutto perché vogliamo concretamente rispondere a un'esigenza che è quella della dieta mediterranea. Insomma, se ne parla tanto, però poi la dieta non si fa perché si mangia del grano. Solo gli amidi, come dice Stammler, sono veleno. E quindi il problema vero è che noi non facciamo la dieta mediterranea, ma ci avveleniamo. Quindi a questo punto il primo giorno è dedicato a questa cosa dei grani antichi. Ci saranno una serie di protagonisti importanti della ripresa delle coltivazioni del grano. Perché io batto molto sempre sulla coltivazione. Noi dobbiamo lavorare, coltivare e ridurre i costi per fare in modo che questa diventa, quella dell'agricoltura nel parco, diventa poi alla fine un affare per chi la fa. Insomma, un possibile reddito di vita per i giovani, insomma, e così via. Quindi poi abbiamo la sera del primo giorno, facciamo rientra tecnolivo vero e proprio e viene dedicato uno spazio ai biofrantui. Cioè nel senso che abbiamo trovato un sistema di biocelle per fare il compostaggio a ridosso del frantui. Un lavoro di ricerca. Sì, molto. Nel senso che abbiamo frequentato gli appuntamenti più importanti. Io insieme a una, devo dirlo, insomma, a una persona straordinaria che si chiama Angelo Napolillo, che è un ex tecnico della regione, pensionato anche lui come me. Cioè siamo ambe due dei rottamati. E però da rottamati siamo anche soli ad occuparci dell'agricoltura, insomma. dell'agricoltura e non dei soldi dell'agricoltura. Perché dovrebbe venire prima questo impegno, poi gli aiuti vengono dopo, ma il primo punto è rendere redditivo il settore, no? Quindi è della buona agricoltura. Abbiamo frequentato Eima di Bologna, Ecomondo, e qui abbiamo trovato delle bellissime soluzioni. Il problema vero che noi abbiamo è che esistono i problemi, esistono le soluzioni, ma non si vedono fra di loro. Cioè bisognerebbe quindi costruire un sistema che faccia vedere problemi e soluzioni e basta, insomma. Non è difficile, però occorre... Ci vuole un lavoro. Ci vuole un lavoro, ma soprattutto bisogna darsi almeno questo obiettivo. Perché qua sia le associazioni degli agricoltori, sia la regione, sia... puntano al controllo distribuzione dei soldi. E che poi a che cosa porta? All'arretramento della coltivazione. Cioè tutti i dati dicono che la coltivazione arretra e i soldi avanzano. Più soldi arrivano, meno si fa. Sì, 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 è così. Insomma, quindi questo significa che si sta governando malissimo, non male, che in questi anni è successo questo, e che bisogna cambiare assolutamente strada, insomma. A chiusura del primo giorno poi è un altro importante momento. Sì, presentiamo anche una bricchettatrice che può essere di enorme vantaggio per i frantoiani, che sono espressamente invitati a questa manifestazione, perché si può ridurre anche la salsa, oltre che in compost, in tronchetti. E anche qui essere di nuovo fonte di reddito e riduzione dei costi del frantoio. Secondo giorno? Poi secondo giorno abbiamo la giornata delle macchine agevolatrici della coltivazione dell'olivo. Quindi abbiamo praticamente macchine un poco per tutta la filiera. Innanzitutto due scuotitori straordinari, uno della Merlo e uno della Spedo, radiocomandati, semoventi, quindi che aggiungono sicurezza, oltre a grandi risultati nella raccolta. Poi le macchine potatrici, quelle della Pelling, che sono elettriche, ma soprattutto quelle spagnole della Humar, che ce le porta agricola nocese in Italia, che danno la possibilità di potare meccanicamente fino a 7 metri di altezza, quindi ottime per gli oliveti nostri, già sperimentate in qualche oliveto calabrese. Poi faremo vedere come funzionano queste macchine applicate ai trattori. Subito dopo la potatura metteremo in campo delle spingi ramaglie e delle macchine che raccolgono e imballano i rami, oppure li riducono in piccoli pezzettini che possono servire anche per gli impianti di compostaggio come il nostro. Infine faremo vedere un atomizzatore spagnolo, anche questo, a doppia ventola controrotante, molto efficace. Ovviamente noi ci spruzziamo il biofertilizzante, non i veleni. Ecco, voglio precisare questo, insomma, oppure il caolino. Difatti nel terzo giorno avremo, che poi è il giorno dedicato al suolo, faremo vedere come funzionano gli aratri a dischi, soprattutto quelli piccolini che possono essere adatti ai terreni nostri che sono difficili, noi li abbiamo già sperimentati con successo. E poi mostreremo una macchina americana, un roller crimper, molto semplice, che serve per abbattere l'erba senza trinciarla. E poi ancora faremo vedere uno spargi compost, faremo vedere il compost che stiamo producendo, e poi visiteremo anche dei campi seminati alle ecuminose. Quest'anno abbiamo sperimentato le ecuminose con le graminacee e le brassicacee, che danno degli ottimi risultati ai terreni. Poi avremo anche una cosa bella, simpatica, che parte quest'anno, che è uno spazio bio, cioè faremo vedere la zeolite cubana che serve per il controllo della mosca, il caolino, e poi ci saranno alcune aziende che producono sementi, come Arco Iris, Sivam, Sis, che porteranno i loro prodotti e li illustreranno. A noi interessano soprattutto sementi da sovescio. Quindi tre giornate molto intense, fatte la mattina di prove di campo e il pomeriggio di discussione sulle prove di campo. Mi ha rivolto il suo invito. Ah, una bella domanda, ti ringrazio. Allora, la manifestazione è innanzitutto dedicata a un giovane agronomo che è morto, che è morto a 27 anni in un incidente stradale, che si chiamava Matteo Cariello. La sua famiglia ha scelto anche di aiutare la cooperativa, e la famiglia comprende anche il parroco di San Mauro, Don Gianluca Cariello. È dedicata al fratello di Don Gianluca questa manifestazione, ma io dico che è dedicata innanzitutto agli agronomi, agli agronomi, perché gli agronomi debbono essere la spina dorsale di questo ragionamento. e poi, oltre agli agronomi, è dedicata ai frantoiani ed è dedicata ai coltivatori, a quelli che vogliono riprendere la coltivazione della terra. Quindi, penso che avremo molto, molto da fare e da raccontare, insomma. Una tre giorni, quindi, da vivere e da condividere. Sì, fra l'altro abbiamo predisposto anche l'ospitalità con dei pacchetti con gli albergatori locali a costi molto contenuti, insomma. Offriremo poi anche un minimo di ospitalità anche in cooperativa con il ristorante. Quindi faremo in modo, faremo di tutto perché questa manifestazione riesca, ma soprattutto che la gente si approprii di contenuti importanti per ridurre costi, aggiungere valore e sicurezza alle nostre produzioni.